Ispezione Sia che si tratti di un'area residenziale o commerciale, le tecniche di ispezione sono simili. Ipotizziamo di voler verificare la presenza di formiche in un dato edificio. Innanzitutto dobbiamo considerare la biologia dell'insetto. Le formiche sono insetti sociali che formano colonie con diverse migliaia o addirittura milioni di operaie che possono insediarsi all'interno delle pareti degli edifici. Negli spazi vuoti e nei pannelli isolanti. Le infestazioni da formiche possono anche essere presenti all'esterno, a seconda della specie e dell'area geografica. Il formicaio è spesso nascosto in giardino o sotto il pavimento. Quando lasciano il formicaio, le formiche entrano negli edifici attraverso piccoli punti d'ingresso, spesso nascosti. Pertanto occorre vedere se ci sono file di formiche o anche formiche isolate e seguirle fino al punto da cui provengono. Spesso il formicaio si trova appena dietro il punto di accesso. Le file di formiche possono variare da pochissimi individui, fino a dozzine di formiche al minuto, e grazie al loro comportamento sociale sono molto facili da rintracciare. Le formiche sono attive sia durante il giorno, sia durante la notte, e spesso continuano a cercare cibo anche quando c'è movimento o sono interrotte dalla presenza di esseri umani nelle vicinanze. Di conseguenza è più facile trovare il formicaio e trattarlo con Advion Gel Formiche.